Ciao a tutti e bentornati a questo appuntamento in cui incontriamo e facciamo due chiacchiere con alcuni grandi musicisti, professionisti e personalità all'interno della chitarra. Oggi abbiamo un ospite che incarna bene tutte e tre queste qualità. Benvenuto Massimo Varini. Ciao Massimo, come stai? Grazie. Ciao anche a te e ciao a tutti. Sto bene. Stai bene, perfetto. Senti, una domanda di Rito che faccio sempre all'inizio è, visto che su Skype si ha l'impressione di essere nello stesso posto ma non lo si è, dove sei e cosa stai facendo? In questo momento sono a Carpi, sono andato stasera e torno a casa a Roma e in questo momento stavo sistemando alcuni test in studio, sai quelli che ogni tanto pubblico poi su YouTube, sto facendo un test sulle sellette in titanio. Urca, qualcosa di super specifico quindi. Sì, sì, sì. Capito. Senti, partiamo dal passato più recente, so che hai un disco in uscita, anzi già uscito per la precisione, ti vorrei chiedere che differenze ci sono rispetto ai tuoi dischi precedenti se ce ne sono, cioè cosa ci puoi dire di questo disco in particolare? Guarda, il titolo è Romanticamente, dove avevo voluto prendere i tre significati della parola, quindi la parola intera Romanticamente, Romantica e Mente, semplicemente perché questi brani che ho iniziato a scrivere un po' di anni fa, perché l'ultimo disco di due anni fa è Relax and Sleep, raccoglieva invece i brani più lenti dei miei tre dischi precedenti, stiamo parlando di un disco acustico, di una sola chitarra senza sovrincesioni. Alcune cose sono nate, sì, proprio romanticamente, anche dal punto di vista musicale, l'altra è la parte mentale perché mi sono dato dei vincoli di suggestione per poi scrivere in maniera molto a fuoco, tipo, non so, Lights and Shadows, per esempio, Shadows and Lights, scusami, ho voluto proprio prendendo due scale parallele cercare di creare luci e ombre utilizzando la scala minore melodica e la scala maggiore, insomma, e comunque è questo il concetto di questo disco. Ho capito, hai anticipato un pochino la mia domanda successiva che era riguardo al processo compositivo, nel senso che una cosa che mi incuriosisce sempre dei dischi strumentali è soltanto un prendere, non so, trovare delle forme di accordi e ragionare sulle accordature così o c'è una vera ispirazione, cioè sai, ogni tanto anche i titoli sembrano suggerire qualcosa che arrivi dalla vita, dall'emozione, dalla vita reale delle persone, delle esperienze. C'è questa cosa nella musica strumentale o no, almeno nel tuo caso? Allora, guarda, nelle canzoni, una volta Vasco diceva, le canzoni vengono fuori già con le parole, io ho iniziato fin da ragazzo, quindi parliamo dell'83, quando ho imparato il primo giro di accordi io ho scritto una canzone, quindi canzone, intendo quindi parole e musica, quindi le canzoni anche strumentali, sulla chitarra mi escono principalmente da due fonti ispiratrici, uno è il groove, quindi di un riff e l'altro è la parte melodica, quindi gli accordi spesso li vado a costruire sopra una parte melodica, raramente parto da un accordo o da un'ispirazione, magari potrebbe essere un arpeggio, quindi ci sono due fronti, uno è la parte ispirata, cioè prendi in mano la chitarra e la canzone arriva, cioè non la vai a cercare. Altre volte invece ti metti lì e cerchi di scrivere, per questo anche romanticamente la parte mente è quello, cioè a volte veicoli, ok ma fammi studiare questa scala e ascoltare per esempio la scala maggior armonica, una scala poco poco usata, dire ok fammi ascoltare bene questa scala, fammi vedere tutte le armonizzazioni ed ecco che a un certo punto mentre tu provi questi accordi di armonizzazione ci sono dei colori che immediatamente ti suggeriscono qualcosa e da lì magari può partire una suggestione che genera poi la creatività, stimola la creatività. Ho capito, senti invece ti volevo chiedere, tornando un po' alle origini, mi piacerebbe sapere se c'era della musica che girava per casa quando eri bambino, ragazzino, insomma quali sono state le prime cose che ti hanno influenzato? Allora a casa mia mia madre era assolutamente contraria alla musica in generale, tranne che quella che ascoltava per radio e quindi tipo io, ricordo infatti di Maledetta Primavera che girava dalla mattina alla sera, dell'oretta Goggi, mentre invece mio padre era un fan, lui ci teneva che io suonassi perché anche lui da ragazzo cantava, suonava l'armonica bocca e cantava. La musica che girava in casa mia era principalmente italiana e quindi mi ricordo tanto che mio papà ascoltava da Morandi a Celentano, il Gen Rosso perché gli piaceva anche quella musica lì e tutte le canzoni degli anni 60 perché poi gli avevano regalato una busta enorme di dischi tirati fuori dai jukebox e quindi a casa capitava di ascoltare quelli, quindi era la musica italiana di quel tipo, anche i gruppi da Vandelli all'Equipo 84, Dick Dick eccetera. E quando poi dopo hai iniziato con la chitarra, invece a livello di chitarristi, ci vuoi fare qualche nome, cioè le cose che ti hanno influenzato più direttamente in origine? Allora io ho iniziato a studiare chitarra andando a scuola da Giampaolo Lancellotti che era il batterista dei nomadi, quindi mi appassionai alle canzoni dei nomadi, però visto che a livello solistico mi ha insegnato delle parti, il primo brano che ho eseguito era Shadows degli Apache, no scusami, Apache del Shadows, ho anteposto il nome, e quindi ho scoperto quel tipo di chitarrismo, poi Guitar Boogie della versione di Arthur Schmidt e altre, poi Santo e Johnny, Maria Elena, faccio per ieri e roba del genere. Quando invece ho scoperto il chitarrismo dopo l'84, quindi quello un po' è, è stato Van Allen, quindi Van Allen è stato un flash perché sentire questo cosa faceva, io ascoltavo I Nomadi, immaginati ascoltare Van Allen che flash è stato, e poi mi hanno influenzato tutti quelli che poi si sentono quando ho nei miei brani strumentali elettrici, quindi posso dirti che mi sono mangiato Pane e Steve Vai, Pane e Satriani, Malmsteen, qualcosa di Greg Howe, ma era meno famoso all'epoca, tanto un po' Jeff Beck, per esempio non fa parte del mio background, non fanno parte Blackmore o Hendrix, li ho scoperti dopo perché i chitarristi che seguivo ogni tanto facevano riferimento a questi, però era quello, il chitarrismo un po' funambolico. Ho capito, sempre sulle origini ti volevo chiedere questa cosa che mi incuriosisce, tu sei Emiliano, giusto? Ma sembra che il rock in Italia debba venire da lì, cioè insomma voglio dire Vasco arriva da lì, Ligabue arriva da lì, anche tu arrivi da lì e anche tanti altri rockers e chitarristi, cosa ha di speciale l'Emilia per partorire il cibo? Il cibo, stanno i tortellini, c'è una concentrazione però? Io guarda, credo che adesso a prescindere da che uno ci voglia scherzare sopra, lasciando stare l'alimentazione, ci sia forse anche uno spirito di emulazione, quando qualcuno in una zona vicino a te riesce in un risultato, nell'ottenere degli obiettivi, forse lo spirito di emulazione di quella zona migliora, se no non si spiegherebbe perché tutti quelli che vanno in moto vengono dalla Romagna o dall'alto pesarese, c'era Rossi ma c'era SIC, c'erano tanti, quindi credo che un po' si sfrutti quello, cioè dici il mio vicino di casa ce l'ha fatta in quell'ambiente, ma allora anche io ce la posso fare, perché lui non ha niente di speciale, non viene dal centro di Milano, dal centro di Roma e quindi si muove questo spirito, sicuramente negli anni in cui ho iniziato io, qui era molto facile suonare, c'erano tanti musicisti, quindi era facile formare una band, io ne avevo quattro di band, facevo le prove tutte le sere, poi c'era una band, facevamo le cover di Iron Maiden e Ozzy Osbourne, ma non avevamo il cantante, quindi facevamo overdose di B minore di tre quarti d'ora. L'annosa problema del cantante, che c'è sempre. Senti invece, passando a qualcosa di un pochino più attuale, ti vorrei chiedere riguardo alla situazione dell'industria musicale oggi in Italia, perché la frase che va per la maggiore è, insomma in Italia se vuoi fare musicista è durissima, non è possibile fare niente, tu hai un occhio privilegiato, nel senso che ci sei dentro, insomma sei musicista affermato, qual è la tua opinione? E chiudo con la domanda, ho fatto la stessa domanda a Tommy Emanuel, non tanto riguardo l'Italia ma in generale, e lui mi ha risposto, se hai le idee chiare, se hai un progetto chiaro, se hai delle buone canzoni è sempre possibile riuscire, qual è la tua opinione? Ebbene, intanto quella di Tommy è giusta, perché è vero, cioè bisogna credere nel proprio progetto. A volte, allora la problematica io ho all'interno della musica commerciale, cioè di quello che viene definito il pop, proprio come contrazione della parola popular, ho rivestito diversi ruoli, quindi non solo l'autore, non solo il gitarrista ma anche arrangiatore o produttore, così come ho scritto delle canzoni che grazie al cielo sono andate molto bene. Questo mi ha permesso di vedere il mondo della musica a diverse parti. È vero che in questo momento è più difficile fare questo lavoro, ok è vero, però è sempre stato, io quando ho cominciato a fare il primo tour di Antonacci 23 anni fa nel 93, ma così prima, mi hanno, se mi dicevano, eh guarda ma te hai cominciato tardi, se tu avessi iniziato negli anni 70, lì sì che si suonava, adesso è più difficile, poi negli anni 80 è stato più difficile, quindi calcolando che, e ogni volta si è detta la frase sempre la stessa, viene da pensare che in questo momento non ci sia modo di suonare, non ci sia modo di vivere con la musica, è che è cambiato tutto, io vedo anche però persone che nonostante siamo in questo momento storico, si siano un po' arroccate su delle posizioni, che ne so, una band rock che vuole mantenere una formazione di sette elementi con dei Marshall e due casse, è ovvio che faccia fatica a suonare, faccia fatica a trovare da lavorare nei locali, perché il numero di locali che li può ospitare si restringe enormemente, ci vuole anche un po' di sensibilità, di intelligenza a guardarsi intorno e capire nella situazione odierna come poter affrontare il mercato, che questo non significa cambiare la propria posizione, ma accettare quel compromesso, stiamo parlando di compromessi della serie, non andare in giro con quattro Marshall ma con un combo, non stiamo parlando di compromessi diversi, che permettano di arrivare comunque e poter fare questo lavoro, dal punto di vista discografico c'è da dire che da tutti questi talent escono un sacco di artisti, questi artisti spesso vanno in giro, quindi ci sono posti di lavoro, non è facile probabilmente trovarli, non è facile trovarli ma c'è da dire che molti musicisti che anch'io conosco o incontro quando vado in giro si affidano sia ai social, social network, youtube eccetera, ma bisogna ricordarsi che bisogna esistere fisicamente, quindi bisogna essere abituati ad affrontare un palco, a colloquiare con gli altri musicisti, a sopportare lo stress di un altro musicista, cioè che tu arrivi in sala prove, devi fare una parte e la fai, cioè non è che registri il video cinque volte alla quinta è venuta bene, tu arrivi, suoni e la devi fare bene quella volta lì, questi tutti gli aspetti, non vorrei dilungarmi troppo e annoiare te e chi ci sta succedendo. No beh, tra l'altro in un certo senso hai anche anticipato un po' la mia prossima domanda, che è invece legata sempre comunque alla tua professione, hai collaborato con alcuni grandi artisti, Antonacci, Neck, ma anche Vasco, giusto? E anche Mina, no? Hai registrato anche delle parti, esatto, anche sull'ultimo di Vasco. Mi ha fatto sette album di Mina. Esatto, la mia domanda è questa, riesci a farci o un veloce paragone tra questi artisti oppure a dirci con chi è stato più difficile lavorare, e parlo simpaticamente, cioè senza voler creare attriti, cioè c'è qualcuno di loro con cui, magari per via della personalità anche, è importante, è particolarmente difficile riuscire a lavorare? Allora, c'è da dire una cosa, la maggior parte degli artisti raramente è presente in studio mentre registri tutte le tracce, perché comunque un disco magari si impiegano mesi a registrarlo, nonostante adesso i tempi si siano ristretti, perché calano le vendite, calano i budget, bisogna stare bassi con i costi, quindi quello che prima facevi in quattro giorni lo devi fare in due giorni, quindi raramente si incontrano gli artisti, io ho lavorato anche con degli artisti che non ho mai incontrato, per esempio, non so, Alessandra Moroso l'ho conosciuta due anni dopo, dopo due dischi che avevo fatto, così come Emma Marrone l'ho conosciuta dopo, gli Audio 2 non li ho mai conosciuti, Valerio Scano ho fatto un suo disco ma non l'ho ancora incontrato, quindi a volte gli artisti non sono in studio, Vasco quando l'ho incontrato l'ho incontrato in giorni diversi da quelli in cui registravo, con Biaggio invece Biaggio era più presente, Filippo Necker è presente quasi sempre, Mina l'ho incontrata alcune volte, sono un po' di anni che adesso ho suonato nel Mina Celentano, che è questo, ma ho suonato anche in quello di vent'anni fa, e quindi a volte era presente, a volte no, perché registravamo nel suo studio a Lugano e lei veniva. Allora c'è da dire che quelli, così come Grignani per esempio erano uno che era in studio sempre, perché era lui il produttore del suo disco, le difficoltà a volte sono di interfacciarsi, cioè a volte quando parli, se fai un disco con un arrangiatore che conosce la musica, hai un linguaggio comune, cioè lui ti dice, che ne so, parlo di Celso Valli con cui ho fatto una marea di dischi, dalla Pausina, Celentano, Morandi, da Alexia, tutti quegli altri, se c'è una cosa che non funziona, l'arrangiatore che conosce la musica, bene o male può sapere quelle che non funzionano, dice no, guarda, guarda qui tutti i minori mettendo la settima diventano troppo strane, facciamo tutti i minori senza la settima e facciamo soltanto lì, oppure metti sempre la non al canto, cioè un termine e un linguaggio più. Altre volte ti trovi con produttori artistici che invece hanno bene l'idea del suono, ma non ti comunicano in termini di noti, dicono ma è strano questo accordo, mi sembra triste, è un pochino scuro, è un pochino chiuso, allora devi capire, tradurre, a volte in questo caso anche gli artisti sono così, per esempio invece Gatto Panceri con cui ho lavorato in studio, lui è un musicista, lui parla nello stesso modo, cioè riesce a parlare in modo chiaro, un musicista quindi è più semplice. Però guarda, fortunatamente è sempre stato abbastanza, io sono poco permaloso, sono molto aperto e ascolto, quindi non ho quelle sicurezze della serie, anzi forse sono molto sicuro e quindi quando sei sicuro accetti le critiche, la critica ti fa paura così come il consiglio quando magari sei insicuro e ha paura che ti sposti in baricentro, quindi ti dirò che di norma mi sono trovato bene. Ok dai, una risposta politically correct, ma l'accettiamo così va bene. No no, però è vero, ma guarda, è solo come abbiamo discusso tanti anni fa, anche lui se lo ricordo ancora, però è stato veramente così, era un momento di stress. Senti invece, cambiando completamente argomento, YouTube, il tuo canale ha compiuto mi sembra dieci anni proprio in questo periodo, la domanda è, all'inizio come è andata, cioè come questi primi video che hai messo su YouTube, come mai sono stati messi, qual era l'idea all'inizio e era un far west YouTube all'inizio, non c'era nessuno, insomma come è andata? Allora, io aprì il canale appunto dieci anni fa, era il 21 ottobre del 2006, ma YouTube esisteva già da un po' di tempo, era un po' che lo stavo monitorando. Io sono sempre, mi interessano molto le novità che siano da quel punto di vista, così come per gli strumenti, quindi vidi questa opportunità e già dall'inizio, avendo anche modo di colloquiare e come ti dicevo, ascoltare le persone, l'idea che il nostro mondo sarebbe cambiato in favore di smartphone piuttosto che comunque la furibilità, si parlava all'epoca delle prime licenze UMTS, anzi se ne già parlava, quindi di quello che sarebbe stato il nuovo corso della multimedialità e quindi d'altronde c'erano tutti quelli che io conoscevo, scaricavano la roba su Emule, io non ho mai sopportato questo tipo di file sharing e quindi dicevo, guarda sta per uscire un mio manuale, era il manuale di chitarra per principianti, il primo manuale che facevo per principianti, ho detto figurati questo qui sarà su Emule, tempo che esca il DVD lo mettono su Emule. Allora ho detto, sai che cosa faccio? Visto che la mia missione, tra virgolette, è quella di cercare di portare più persone possibili a suonare la chitarra, io metto tutte le lezioni su YouTube, così almeno quando qualcuno mi incontra e non ha comprato il manuale, non è che non mi dice niente perché se l'è scaricato e me l'ha rubato, tra virgolette, ma l'ha scaricato, l'ha visto su una piattaforma che io ho voluto essere mia partner e quindi caricai tutte le lezioni del manuale di chitarra dove la lezione numero uno, perché ormai si ha un milione e novecento mila play, però sempre perché lavorando spesso all'estero ho percepito che la problematica in Italia non puoi combattere la pirateria facendo capire che la pirateria è contro la legge, perché noi siamo italiani e noi cerchiamo le scorciatoie, quindi è un problema culturale, così come scaricare un mp3 c'è ancora gente che dice ma la musica costa un sacco di soldi, ma chi è che non ha un euro e ventinove da scaricarsi un pezzo se lo deve andare a cercare piratato, è proprio di testa e quindi io mi sono autopiratato tutto quello che facevo lo mettevo lì e continuo a farlo, cioè se uno vede che è una roba bella, io dico la metto lì gratuita, se uno vede che è bello sa che quello con il libro se lo compra, se spende 15, 17 euro è perché ha capito che quello che gli posso dare è qualitativamente elevato spero e o perlomeno ci sia del contenuto e quindi magari mi premi acquistando poi il mio prodotto. Ok, senti, fantasticamente ci colleghiamo ancora alla domanda successiva perché riguarda un po' i formati della didattica oggi, nel senso che tu vabbè hai iniziato, quindi se non sbaglio dai testi, insomma con i supporti fisici, con la didattica, poi dopo ti sei affacciato sul web, più di recente hai lanciato il tuo laboratorio musicale Varini, quindi un progetto proprio di e-learning puro, qual è la situazione adesso? C'è chi vince tra questi supporti? Cosa succederà nel futuro secondo te? Allora, io c'è da dire che ho iniziato sì con la carta stampata, quindi anche c'è proprio la carta e poi qualche anno fa visto che però sai sulla carta stampata hai bisogno di un editore, quindi qualcuno che stampi metta nei negozi, quindi c'è una catena, tu produci loro in pagina lo stampano, va agli corsisti, alla distribuzione, al negoziante eccetera. Però erano già un po' di anni che dicevo guardate che fra un po' il DVD morirà, cioè io sono già dieci anni che dico CD e DVD diventano dei gadget come un biglietto da visita. Adesso secondo me siamo messi ancora peggio, cioè non è nemmeno quello perché i supporti nuovi, quasi tutti i ragazzi non sanno dove metterlo un DVD. C'è da dire che però ci sono quelli anche più anziani, tra virgolette anche quelli della mia età, che quindi vogliono imparare e che il supporto digitale che contenga video lo ritengono ancora un plus, tant'è che comunque continuo a produrre i miei manuali. Quindi in questo momento io tengo i piedi in molte staffe. Ho lanciato qualche anno fa i video on web, mi faccio la pubblicità, vedi questa cosa qui che è un video on web, era quello che io ho chiamato didattica anticrisi, cioè far sì che uno possa spendere molto meno di un libro, invece che 26 euro ne può spendere 17, non mette il CD ma ti metto dei QR code con i quali accedi comunque ai video, però che sono in cloud e quindi a quel punto o te li scarichi, perché li metto su YouTube e quindi te li puoi scaricare, oppure li vedi in streaming. In questo modo hai il supporto cartaceo e il video che ce l'hai sempre anche in mobilità, non ti dimentichi il DVD, il DVD potrebbe avere dei difetti, quindi eliminiamo anche il problema del difetto. I negozianti che espongono i libri con il DVD ogni tanto gli ciulano i DVD, cioè li aprono e li rubano. Uno cosa si fa di un DVD se poi non ha il cartaceo? Perché a volte poi scaricano il PDF, sempre tramite il file sharing. Quindi in questo momento il DVD non si possono fare manuali senza DVD perché il mercato ancora per almeno più del 50% vuole il DVD o perlomeno lo percepisce come un lavoro più completo o come un valore aggiunto. Quindi io faccio quali con il DVD, per esempio questo è il mio manuale nuovo uscito in settembre, uscirà adesso anche con il DVD, però usciranno le due versioni, c'è quella verde che ha il DVD, quella rossa che invece è il video online e il video web e continuo per il mercato internazionale con Truefire che sono quindi corsi in download e invece per il mercato italiano con la scuola e-learning che è un progetto totalmente diverso. Secondo me bisogna cercare di fare questo per riuscire a raggiungere il pubblico che voglia imparare in diverse forme. E poi insomma è una cosa che fai anche tu, quindi lo sai. Sì, 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 assolutamente. Senti, parlando invece di strumenti musicali, tu tra le altre cose insomma lavori con Echo e hai delle linee di chitarre così, ci vuol dire cosa bolle in pentola su questo fronte? Cioè quali sono i modelli che o sono appena usciti o stanno per uscire? Allora, diciamo che di grandi novità non ne ho inserite perché il catalogo ha bisogno ancora di essere conosciuto, quindi ho iniziato a lavorare al progetto di tutti i modelli, scelta di legna eccetera nel 2013 e l'abbiamo presentato nel 2014 al NAM e adesso dopo due anni qualcosa insomma i negozianti l'hanno capito, magari prima si fidavano meno di Echo per la qualità, l'hanno capito sia in Italia che all'estero grazie al cielo. Alcuni modelli sono top seller su Ditar Center, Ditar Center è il più grande negozio al mondo, la più grande realtà del mondo perché in America ha 250 punti vendita, quindi la Ranger VR per esempio è top seller come la NXT Parlor, quindi sono molto contento. Le novità le sto buttando dentro dal punto di vista elettriche, tra l'altro c'è un'altra qua, sto facendo i test delle sellette su questa, vedi che sono un pazzo, questo è un test delle sellette quindi mi faccio col nastro dove devo dare la pennata in maniera che se do la pennata lì e vado a 0 dB riesco a paragonare, vabbè sono pippe mentali. Sto buttando delle novità sulle elettriche perché così come c'è stato negli anni scorsi un calo del mercato delle elettriche, secondo me noi in Italia potremmo rivedere un po' una partenza anche se secondo me per esempio pedalini, caleranno, insomma ho fatto un po' di analisi. Quindi questa che si chiama Aire, che è una chitarra che sarà relicatissima, vedi che Fontanot mi ha riuscito a farle veramente, fatte veramente molto bene. Sembra abbastanza credibile la relicatura. Assolutamente, sì, dobbiamo ancora lavorare meglio su alcune cose, anche sul manico un pochino troppo, cioè ci stiamo lavorando, dobbiamo fare meglio la sigaretta qui, però la differenza è che abbiamo uno shape nostro ovviamente strato ispirato, quindi sicuramente forma più strato, però è realmente più simile alla vecchia Cobra degli anni 60 di Eco perché qui curva un po' di più, vede però la differenza che è un 24 tasti con un unbucker e una paletta 4 più 2, quindi no, ci sono un po' di novità che però sai sono novità che è inutile che mi metta a dire perché devo avere prima tutta la prototipazione per capire il costo, per poi capire, io incontro tanta gente, giro tanto, anche sto facendo appunto questo tour per Eco, quindi sento molto la responsabilità di fare un qualcosa che non solo funziona e bella, ma che abbia un prezzo corretto perché se poi incontro qualcuno e mi dice oh ma hai fatto comprare una roba che fa schifo, a me questa cosa dispiace. Certo, senti ti faccio un'ultima domanda, sempre riguardo gli strumenti, siccome tu vabbè sei endorser poi di vari marchi, so che hai una marea di roba tra chitarre e tutto quanto, ti faccio una domanda secca, una domanda secca. Ti chiedo tra i tuoi strumenti di citarci una chitarra del cuore, un amp del cuore e un pedale del cuore, quelli definitivi che ti porti su Marte. Allora, acustica, ho una chitarra che non so come abbia fatto a nascere qui, si chiama Martin OM42 Custom Solid Klar Walnut, cioè è un OM42 con fascia e fondo in noce. Una elettrica, mi fa compagnia da 22 anni, è la Mirage, la Hammer Mirage, che ho appunto dal 95, quindi alla fine di quest'anno sono 22 anni. Un pedalino, il Multi che mi ha costruito Gem Pedal, è un pedalino che ho dentro il compressore, overdrive, un po' di roba. Poi cosa mi hai detto? Un amp. Ampli. Ampli mi porto la brunettica Stonework. Subart ti porti quella. Sì, però non so se hanno la 220, se vanno a 100. Lo scopriremo. Va bene Massimo, senti, ti ringrazio, abbiamo parlato di un sacco di cose, credo che sarà molto interessante per i miei followers. Vuoi fare un saluto agli ascoltatori di lezionichitarra.it? Imparate a suonare la chitarra, più chitaristi ci sono in giro e migliore il mondo, quindi seguite Claudio che sta facendo un ottimo lavoro, io lo tengo sempre monitorato, come ci siamo detti prima di fissare questo appuntamento, siamo in competizione, ma la competizione quando è sana significa che ci si sprona l'uno con l'altro a fare le cose migliori, quindi questo deve essere secondo me di esempio anche a chi vuole fare questo mestiere della musica, l'invidia non porta nulla, ma la collaborazione invece sì, la collaborazione sana, cercare di creare un mondo migliore, perché se il mondo è migliore si spara una musica più bella, molto, stamattina è più romantico. Grazie Massimo, ciao, a presto. Ciao.